Allora, una band che nasce nel 79, che come sanno il pubblico che ci sta seguendo da un po' di tempo a questa parte, per noi il country è esploso uno o due anni fa, che è entrato in ogni casa in questo modo così prepotente, bellissimo, mentre chi è il vero cultore del country sa perfettamente che già a quei tempi il country era in Italia, ma non era conosciuto, non era forse neanche considerato, forse aveva delle sonorità un po' più difficili per noi che eravamo abituati, Dorio Bagnoli è liscio, magari serpeggiava il latinoamericano, erano altre sonorità, quindi il country ha fatto davvero fatica ad emergere. Come mai nel 79 avere l'idea di aprire un gruppo country? Ma sai, nel 79, come hai detto giustamente, il country non era così diffuso, però a quei tempi qualcuno della formazione originale ebbe la voglia di provare a mettere sul piatto l'interpretazione di qualche brano di cantanti, che a quei tempi c'erano e comunque cominciarono ad essere conosciuti in Italia, perché John Denver, anche se non è proprio un cantante country, però gli Eagles non sono nemmeno loro proprio country, però Eagles, John Denver si è data un'impronta sicuramente americana e un po' sul genere in direzione del country. Poi forse la storia dei Dobro, l'ingresso di certi elementi, musicisti di un certo tipo, ricordiamo anche Ise Bolchi, che nel mondo del country tutti conoscono, che è un nostro grande amico, è stato violinista pedal stealer dei Dobro, sicuramente lui all'inizio ha portato una forte ventata di country nei Dobro, poi da lì entrammo anche io, Claudio Palù, tutti già appassionati da prima e quindi più rafforzi lo staff della band con delle persone che amano il country, più chiaramente diffondi nella band questo spirito. Da dove nasce il nome Dobro? Perché non è un nome prettamente country, no? In realtà lo è, perché... Dipende che lingua lo dici, dai. Molti pensano, è una parola che nei paesi balcanici sta per bene, buono, ha questo significato. In realtà Dobro è il nome di uno strumento musicale, molto diffuso nella musica country e bluegrass, non sto a raccontare la storia dell'origine del nome in sé, però Dobro è il nome di uno strumento, che paradossalmente quando i Dobro nacquero c'era questo strumento. Ancora si suonava questo strumento. Quando sono entrato, io quando i Dobro sono nati non c'era il Dobro nella band, però il nome è stato adottato per la band. Questo strumento, ovecchiabile, associabile. Immediato, immediato proprio. Ma tu pensa, ascolta, la vostra scelta musicale, perché non credo, credo che anche comunque nel country, che è vastissimo, ci sia comunque una direzione musicale e, fra virgolette, ma so già di sì, i vostri inediti, i vostri dischi, insomma, i vostri successi. Noi abbiamo fatto quattro CD, poi forse parleremo più specificamente dopo dell'ultimo, che presentiamo oggi. Infatti dopo parliamo dei progetti, sono qui per qualche motivo. Sul genere, sì, ogni band, noi siamo fondamentalmente una cover band, anche se abbiamo composto qualche brano, però fondamentalmente rimaniamo una cover band. Il nostro filone è, se vuoi, dovuto al fatto che abbiamo una strumentazione di un certo tipo, abbiamo battezzato un certo filone del country, che è un country moderno, non l'ultimo grido, non quello, il ragazzino, lo sbarbatello che si presenta oggi a Nashville. Stiamo sui grandi classici, ma abbastanza contemporanei, e con qualche svisata, sia musicalmente, abbiamo un pezzo o due che ricordano più brani di genere bluegrass, piuttosto che qualche brano che anche comincia ad avere un'età anche importante, 40-50 anni, che infiliamo nel repertorio per accontentare un pochettino tutta l'audience che abbiamo. Fondamentalmente scegliamo brani orecchiabili, immediati, ovviamente adatti alla formazione, agli strumenti, alle voci che abbiamo, però brani che devono risultare immediatamente piacevoli a chi anche non è addetto ai lavori. E che quindi può non soltanto ballare, ma piacevolmente ascoltare, perché ci sono molte persone che stanno sedute, vedi me, che non ballo.